Errori di comunicazione. Ci sono gli errori di comunicazione, che non sono pandorici, sono proprio errori di comunicazione fatti online, senza comprendere il senso dell'online, perché il senso dell'online è una cosa diversa da quella che si vede. Cioè la maggior parte delle persone che contano e che hanno un'opinione su quello che dici online, non si sentono, non si vedono, non fanno like, non ti fanno nemmeno un follow, cioè a meno che proprio non gli dai fastidio. E allora gli errori di comunicazione sono, per esempio, qualcuno doveva dirlo, la foto sul jet privato, la foto in business class. Cioè è un errore di comunicazione, ma perché? Perché, qualcuno doveva dirlo, è scomodo! L'aereo è scomodo! Oh, è scomodo! Quindi non puoi stare su un aereo e fare una foto comoda. Ah, come sto bene ragazzi, come sono figli! Perché è scomodo! E poi certo, c'è scomodissimo, scomodo. E poi c'è fino ad arrivare a letto addirittura, c'è il presidente degli Stati Uniti che ha la stanza da letto. Ma è scomoda pure quella, perché sei in aereo, perché vibra, perché si muove, perché c'è rumore, anche se è meno possibile, ma c'è, è un posto scomodo. E quindi c'è questo attrito tra quello che vuoi far vedere e quello che tutti inconsciamente, perché anche se non ci riflettiamo lo sappiamo, è scomodo! Quindi la foto sull'aereo, ah, come sono figo! A parte che fa, ah, come sono figo, è già metà delle persone sta dall'altra parte, però ci sta. Nel senso che se uno compra la Ferrari nuova e dice, wow, ho una Ferrari nuova, ma che bello! Effettivamente ci sta, cioè tu senti il wow, beato te! E l'altra metà di persone dice, ti taglio le gomme, è cattivo, è cattivo, è brutto. Va bene, però lo percepisci, cioè capisci che quel sentimento ci può essere, ma il sentimento di, ah, come sto comodo, no, ah, come sto comodo, qua in un albergo con i cuscini bianchi, comodi, no, no in aereo, non puoi star comodo, capito? Puoi dire, sono felice perché sto andando nella località, ma non lo dicono, perché lo fanno per far vedere che loro sono fighi, ma non funziona, ok? Quindi questi sono errori di comunicazione digitale, perché una volta queste cose non si facevano, perché un conto è il giornalista che ti fa la foto, e allora finisci sul giornale, su questo, ma, ah, come sono figo, come sono comodo, no, non ci convinci, niente, errore di comunicazione, senza Pandori, comunicazione, errore.